Apri la triglia filetti, puliscila, togli le lische e le squame. Mettile in una griglia e con un cucchiaio versa sopra olio caldo per cuocerla. Adagila in un piatto con un sac a poche e metti l'aceto emulsionato. Qualche fogliolina di grass sporca il piatto con l'aceto ristretto e servi.